Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per i prossimi giorni. Oggi vogliamo iniziare con una splendida immagine. Qua ci troviamo ad Altamura, siamo in Puglia, provincia di Bari. Siamo a 450-460 metri sul livello del mare. Guardate come è tutto imbiancato dalla neve, ma tra l'altro nelle ultime ore la neve è caduta anche lungo le coste del Medio e Basso Adriatico. È arrivata aria fredda, non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore. Il tutto è dovuto alla presenza di quest'area di alta pressione, che poi è l'anticiclone della Zorra, che si è allungato in maniera anomala verso le alte latitudini, favorendo l'arrivo di correnti fredde dalla Russia verso l'Europa orientale e poi anche verso il Mediterraneo centro-orientale. Quindi Italia coinvolta in questa circolazione di aria molto fredda, temperature basse e nevicate. Vediamo allora, nelle prossime ore, fino al pomeriggio del 31, dove potrebbe nevicare, abbiamo messo anche lungo le coste delle regioni del Medio e Basso Adriatico, ovviamente anche in tutte le zone interne delle regioni adriatiche, soprattutto lungo la dorsala peninica, ma fiocchi di neve interesseranno anche molte zone del sud, Calabria, Sicilia e anche la Sardegna, fino a quote basse, come vedete, fino a 200-300 metri. Poi cosa accadrà a partire da Capodanno? Beh, piano piano la situazione andrà migliorando, residui fenomeni all'inizio dell'anno solo all'estremo sud, ma poi tutta questa zona di maltempo tenderà ad allontanarsi e nel frattempo l'alta pressione che abbiamo visto sull'Europa occidentale centrale rimonta anche verso l'Italia, favorendo a partire dal 2-3 anche un progressivo rialzo delle temperature. State con noi comunque per tutti gli aggiornamenti su 3bimeteo.com o tramite la nostra app gratuita.